La palla a volo mette in mostra i talenti italiani più preziosi. Lo fa, come ogni anno, al Trofeo delle Regioni, partito ufficialmente oggi ma che entrerà nel vivo domani con le prime gare e nastri di partenza delle chinderie del 2015 anche la Calabria, con la rappresentativa regionale, ospite, poco prima della partenza per la Costa Messinese, teatro della Kermesse, al Palla Valencia di Vibo, casa della Callipo Volley. Società che può vantare ben 4 atleti nella formazione che porterà in alto la bandiera calabrese, Daniele Schiavone, Giuseppe Mancuso, Luca Torchi e Samuele Raffaele. A loro si aggiungono altri tre giocatori che hanno giocato in prestito quest'anno, alcuni campionati giovanili con la casacca giola rossa. Si tratta di Domenico Paradiso, Lorenzo Pileggi e Lorenzo Iorio. Come detto, la prima fase giocata del torneo avrà inizio domani e vedrà le 42 rappresentative regionali divise in 7 raggruppamenti. Complessivamente, il primo giorno si disputeranno 42 gare per arrivare a compilare una prima classifica che qualificherà alla fase successiva le prime 16 formazioni sia nel maschile che nel femminile. Nei due giorni successivi, quindi il primo e il 2 luglio, si procederà su quattro campi per arrivare a determinare gli accoppiamenti dei gironi di semifinale che si disputeranno venerdì 3 luglio, mentre le due finali sono in programma a patti sabato mattina il 4 luglio.